il congresso, mi rimase impressa questa parola detta da Feltri, essendo lui bergamasco, essendo io bergamasco, automaticamente in sede di congresso quando sono arrivato a quel passaggio ho detto se dovessi prendere a prestito quanto ha affermato Feltri mi definirei un pirla secondo un concetto direi bergamasco definito poi non so, poco accorto, poco attento, forse era opportuno precisare meglio il significato in quel giorno. Una parola un po' grossa, dottore traduca lei in francese, lei che sa tutte le lingue, come direbbe? No mi chiedevo se si rivela, no è con, è una parolaccia ma si usa. Una parolaccia? Ah beh sì certo. Cosa designa? Designa, lei vuole che io lo dica, io voglio che lei lo dica, sì perché c'è qualcosa di torbido in lei di Fornari, nella sua adolescenza refoulet, designa originalmente l'organo sessuale femminile, femminile. Ed è diventato sinonimo di scioccone, di distruttore. In genovese si direbbe... Ma si chiama l'organo sessuale maschile? Maschile milanese, sì sì. Direi che l'interpretazione che diamo noi è la parte seconda, diciamo, se vogliamo. Io credevo, non sapevo che fosse una parola bergamasca, fosse una parola milanese. Ma da noi si usa parecchio, perlomeno, forse perché parecchi di noi vanno a volare a Milano e quindi c'è una trasportazione... Io sento il bisogno di tradurre in genovese, in genovese si direbbe Belinone. Ecco, questo per l'interesse nazionale. No, anche io sono un po' campanilista come voi, quindi lei mi scuserà, naturalmente. Senta, a proposito di questo, lei è un uomo che viene dal popolo, come tanti della Lega, voi siete un partito fortemente popolare, lei faceva l'idraulico. Non le è venuta la tentazione a questo punto, dopo questa caduta, per colpa sua, non per colpa sua, di tornare al popolo, cioè di tornare a fare l'idraulico, di sottrarsi alla...